Musica Ci troviamo in località Dogana nel comune di Castelfrentino sulla strada che collega la Valdelsa a San Mignato. La chiesa di Santa Maria a lungo tuono è il luogo di culto della frazione con l'antico annesso della canonica di San Nicolò a Collepanti. Le prime tracce documentali risalgono al 1297 quando furono stabiliti i confini di demarcazione fra il territorio della Repubblica Fiorentina e quello del comune di San Mignato e ne fu decretata l'appartenenza alla diocesi di Volterra. La chiesa, preceduta da un portico, è stata ristrutturata e ammodernata dopo l'alluvione del 1966. L'interno è privo di navate, ha un soffitto in legno e un grande crocifisso, pure in legno, che campeggia sulla parete di fondo. Su da sinistra si trova un fonte battesimale di pregio e alle pareti non mancano tavole a olio di grandi dimensioni. Fra queste si annovera un dipinto di grande valore attribuito con ogni certezza a Cosimo Rosselli, artista fondamentale del 400 toscano. La tavola d'altare di Cosimo Rosselli risale al 1471, proviene dalla chiesa di San Nicolò con le Patti ed è qui conservata nella chiesa di Santa Maria a lungo tuono fin dal 1576. Il dipinto raffigura la Madonna col bambino in trono fra i santi Antonio Abate, Francesco, Chiara e Verdiana. I quattro santi sono ben riconoscibili per gli attributi iconografici che li caratterizzano. Santa Verdiana, alla destra della Vergine, si riconosce dai pani e dai serpenti che la tormentarono durante la sua clausura nella cripta del santuario a lei dedicato nel centro di Castelfiorentino. Santa Antonia Abate lo si riconosce per la presenza del maiale che giace ai suoi piedi. La Santa a lato di Verdiana è chiara con il tipico libro in mano, simbolo di dottrina e riferimento alla regola. Mentre la rappresentazione di San Francesco all'estrema destra conferma il fatto che l'ufficiatura della chiesa di Collepatti era stata affidata dal frate Lodovico di Volterra ai frati di San Francesco di Castelfiorentino. La tavola, come riporta la scritta sul gradino del trono ai piedi della Madonna, fu commissionata a Cosimo Rosselli da tale Neri di Domenico Neri il 27 ottobre 1471 con una dotazione di elemosine raccolte fra i fedeli. L'opera è stata restaurata in occasione della mostra La città degli Uffizi nel 2011, un restauro complesso che ha permesso non solo di restituire alla tavola, fortemente compromessa, il suo originario splendore, ma che ha anche fornito nuove informazioni storico-artistiche che la riguardano, tornando finalmente ad arricchire con la sua bellezza la chiesa di lungo tuono. Dieci anni dopo aver dipinto questa tavola, Cosimo Rosselli avrebbe contribuito alla realizzazione dei dipinti della Cappella Sistina e di ritorno da Roma avrebbe affiancato Benozzo Gozzoli nel completamento degli affreschi del Camposanto Monumentale di Pisa. Cosimo Rosselli